E amici direi di partire direttamente nel mostrarvi le modalità di allenamento monitorabili da questo Honor Watch GS Pro. Per fare ciò vi basterà cliccare qui sul pulsante inferiore ed accedere appunto a tutto lo sconfinato parco di attività sportive monitorabili. Qualora non vi bastino queste presentate in prima battuta, scorrendo fino in fondo avete il pulsantino aggiungi dove potete appunto aggiungere eventuali altre attività sportive, ce ne sono davvero tantissime. Avete il Pilates, avete l'occhi sul ghiaccio, avete il balletto, avete addirittura le corse in automobile. Insomma davvero tantissimi sport monitorabili. Detto ciò una volta che avete scelto il vostro sport preferito, ad esempio proviamo a effettuare una passeggiata all'esterno, con l'iconcina a forma di ingranaggio potete settare degli obiettivi o degli eventuali promemoria dedicati appunto magari alla distanza, ai passi percorsi e quant'altro. Una volta dentro ci cliccate e vedete che appare il segnale del GPS che aggancia davvero in maniera molto molto rapida. Guardate qua, ha già preso il segnale e a questo punto potete cliccare e o meglio far partire l'attività o direttamente tappando sul display o con il pulsante sempre qui inferiore. Queste sono le schermate che ci vengono mostrate per l'attività appunto fisica, possiamo eventualmente scorrere sempre usando il display, quindi tramite il touchscreen o eventualmente qualora abbiate le mani sudate, beh sempre con il pulsante qui inferiore potete scorrere tranquillamente nelle schermate e visualizzare tutti i dati mostrati. Per terminare un'attività o eventualmente metterla in pausa basterà cliccare invece sul pulsante qui superiore e a questo punto potete direttamente far ripartire l'attività oppure terminarla. Da qui potete inoltre regolare il volume, avete sentito che c'è una voce guida in inglese che vi stimola e vi dice le informazioni principali. Oltre a questo avete la possibilità di bloccare la schermata direttamente preferita, quindi qualora vi interessa soltanto questa attività dove ci viene mostrata ad esempio frequenza cardiaca, passi, distanza e tempo trascorso potete bloccarla. Detto ciò cos'altro dire? Lui purtroppo non gode della pausa automatica e quindi dovrete sempre rivolgervi al pulsantino per mettere in pausa. Molto buono il fatto che lui ci dica in tempo reale se siamo nella zona cardiaca di aerobico, brucia grassi o quant'altro. Insomma abbiamo direttamente in prima battuta tutti i valori che ci possono interessare. E amici oggi la giornata fa davvero schifo, guardate qua sta piovendo, notate anche qualche gocciolina sulla fotocamera ma poco male perché il nostro Honor Watch GS Pro è certificato per l'immersione fino a 5 atmosfere ma soprattutto gode di ben 14 certificazioni di standard militare 810 G. Questo significa che lui è ultra resistente ad urti, graffi ma soprattutto ad intemperie quindi nebbia, pioggia e anche a temperature estreme come il caldo e il freddo polare. Voglio farvi vedere anche un'altra cosa perché dalla schermata qui principale ma anche tutte le altre schermate che ne sosseguono possono essere personalizzate. Ad esempio tornando qui in questa principale se io tengo premuto vedete che abbiamo delle piccole finestrelle che possono essere cambiate. Qui io posso scegliere valori di tempo, distanza, frequenza cardiaca, ritmo, ritmo medio, velocità, velocità media, calorie, insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi posso tranquillamente andare a personalizzare con i dati che più mi occorrono magari in prima battuta perché non sempre devo andare a scorrere su tutte quante le schermate. Quindi ad esempio come nel mio caso la prima schermata io l'ho impostata con frequenza cardiaca, passi, distanza e tempo. Altra cosa da dire è che purtroppo nonostante possiamo abilitare l'always on display questo non ci mostrerà i dati dello sport quindi dobbiamo ogni volta andare a ruotare il polso per attivare lo schermo e quindi visionare i dati mostrati appunto relativi alla nostra attività sportiva. Quindi terminiamo l'attività e questo praticamente è il riepilogo generale di tutto quello che abbiamo monitorato quindi logicamente ci verrà mostrato tutti i valori e vedete anche relativo ad altezza perché lui è dotato di barometro ed altimetro, abbiamo qui il grafico della frequenza cardiaca, abbiamo lo storico, un grafico dove ci dice dove siamo stati, in che zona, il ritmo insomma davvero davvero molto molto completo, addirittura gli effetti di allenamento e addirittura insomma tantissimi altri valori che poi possiamo andare a sincronizzare con l'applicazione Huawei Health e andare quindi a monitorare e analizzare meglio i grafici che ci vengono proposti appunto dall'attività. Infine voglio mostrarvi altre due cosette perché da tutte quante le schermate di monitoraggio sportivo effettuando degli swipe potete accedere direttamente al lettore musicale integrato. Vi faccio sentire, vedete che abbiamo la musica che possiamo appunto comandare e eventualmente possiamo anche abbinare delle cuffiette bluetooth ma soprattutto vedete che per gli sport dove è presente una traccia gps abbiamo questa sezione qui che ci mostrerà il percorso effettuato da cui possiamo eventualmente anche seguire la via di ritorno quindi soprattutto per sport come potrebbe essere il trekking o comunque l'alpinismo questo è davvero un valore aggiunto perché così non rischiate di perdervi. Sempre relativo all'alpinismo abbiamo tra le varie schermate anche la possibilità di andare a leggere direttamente il valore SPO2 ossia l'ossigenazione del sangue questo è un valore molto molto importante appunto per sport in alta quota. E quindi amici come si comporta questo Honor Watch GS Pro? Beh devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso per la qualità e l'accuratezza dei dati raccolti e soprattutto l'affidabilità di questi. Infatti ho potuto paragonare l'Honor Watch GS Pro ad esempio con i dati raccolti da un pulsossimetro, un saturimetro da dito e questo devo dire che è praticamente piuttosto in linea con quanto letto e monitorato dall'Honor Watch GS Pro che ricordo appunto integra un cardiofrequenzimetro che ci permette di andare a monitorare la nostra attività cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ma soprattutto in tempo reale. Questo significa che il dato che voi leggerete in quel momento è quello proprio effettivo quindi non dovete aspettare chissà quanto tempo. Avete anche appunto la possibilità di leggere l'ossigenazione del sangue e il valore SPO2 ma ricordiamo che questi dispositivi non sono di tipo medico quindi qualora riscontriate delle anomalie che vi vengono appunto segnalate anche dall'orologio stesso il consiglio è sempre quello di recarvi presso il vostro medico curante. Ma analizziamo anche un po' più da vicino questo Honor Watch GS Pro che si mostra con un design che potremmo definire rugged entrando in diretta concorrenza con l'Amazfit T-Rex anche se lui offre molte molte più funzioni smart ed è decisamente super super consigliato. Uno stile rugged che però al tempo stesso potrebbe essere anche definito elegante forse in questa colorazione la charcoal black dove abbiamo una lavorazione su tutta la cassa realizzata in metallo abbiamo una texture che praticamente potrebbe essere quasi definita tropicalizzata ricordandoci appunto le macchine fotografiche professionali. Degne di nota anche gli inserti in colorazione rossa due piccole freccettine posizionate direttamente al di fuori della ghiera realizzata anch'essa in metallo e dettagli in colorazione rossa che vengono riproposti anche sui due pulsanti laterali quello superiore e quello inferiore. I due pulsanti come avete visto ci permettono di svolgere alcune azioni ma quelle principali sono quelle di risvegliare direttamente il display che può essere effettuato anche tramite rotazione del polso e ci permettono di entrare o nel menu principale o appunto andare a richiamare un'attività a nostra scelta e nel mio caso appunto l'attività del monitoraggio sportivo. Honor Watch GS Pro si freggia di un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel e 326 ppi di definizione. È un display di tipo touchscreen ma abbiamo visto che possiamo scorrere nelle schermate anche utilizzando i pulsanti. Ad ogni modo un'ottima luminosità e degli ottimi colori davvero molto molto brillanti. Luminosità che può essere tarata in maniera manuale ma è presente anche la modalità automatica che funziona davvero molto molto bene andando quindi a evitare l'eventuale effetto faro di notte e soprattutto sotto la luce diretta del sole quando questo c'è beh devo dire che si legge molto molto bene. Insomma è davvero un'accortezza dedicata proprio agli sportivi che amano effettuare lo sport all'aperto. Al di sotto della scocca troviamo i pogo pin magnetici che ci permetteranno tramite basetta proprietaria di andare a ricaricare la batteria integrata del nostro orologio. Una batteria di cui purtroppo ignoro l'effettiva capacità perché Honor non mette a disposizione questo dato. C'è chi in rete si spinge dicendo che abbiamo una batteria da 790 mAh io non so se effettivamente è questo il dato reale ma posso dirvi che andandola a sfruttare davvero e davvero in maniera super super smart beh pur riuscite tranquillamente a portarvi a casa dai 10 ai 12 giorni di autonomia ma l'azienda dichiara che potete arrivare anche a 25 giorni e devo dire che bene o male questi dati sono piuttosto realistici perché tutto dipende dall'effettivo utilizzo che farete dell'orologio dipende da quanta attività andate a monitorare se attivate o meno il gps quante notifiche effettuate se eventualmente risponderete e utilizzerete lo smartwatch anche come telefono da polso e soprattutto stabiliterete l'always on display perché abbiamo anche questa feature diciamo a disposizione purtroppo l'always on display non segue comunque le watch face dell'orologio ma ne sono disponibili ben sei diverse modalità tra analogico e digitale. Sempre analizzando il posteriore notiamo come è presente il cardiofrequenzimetro e il sensore dell'SPO2 appunto l'ossigenazione del sangue ma soprattutto notiamo la presenza di un microfono e dello speaker perché come ho già anticipato prima questo Honor Watch GS Pro ci permetterà anche di andare ad effettuare direttamente delle chiamate dal nostro polso e devo dire che la qualità audio è davvero davvero impressionante non mi sarei aspettato una qualità del genere da un dispositivo del genere passatemi il gioco di parole un audio piuttosto cristallino e soprattutto anche ad una media distanza diciamo più o meno così il nostro interlocutore ci sente sempre in maniera forte e chiara. quello che forse mi ha lasciato leggermente deluso è la scarsa oleofobicità del display che trattiene davvero molte molte impronte ma poco male perché all'occorrenza potete tranquillamente purirlo o con un semplice panno o direttamente sotto la doccia perché ripeto lui è certificato per l'immersione fino a 5 atmosfere. Molto robusto anche il cinturino che gode di uno sgancio rapido ma probabilmente non riuscirete facilmente a trovare in commercio dei cinturini intercambiabili perché hanno un attacco sia a sgancio rapido ma leggermente particolare perché ha dei piccoli delle piccole sporgenze che tendono a tenere ferma la casta e quindi tenerla ancorata al polso per una meglio misurazione delle attività sportive e dei valori relativi a frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue. Cinturino che comunque offre una chiusura, una fibbia in metallo e soprattutto due passanti che permetteranno di evitare l'effetto bandiera del cinturino che sporge una volta chiuso. Devo dire che purtroppo però forse questo cinturino risulta leggermente scomodo durante le attività sportive non tanto perché crea fastidi o comunque potrebbe creare arrossamenti della pelle anzi sotto quel punto di vista ampiamente promosso però tende a far rimanere a far ristagnare il sudore e questo è un po' un peccato perché all'occorrenza dovremo sempre andare a pulire il nostro smartwatch, nostro sport watch come vogliamo chiamarlo dopo un'attività altrimenti pena la puzza del sudore sulla nostra pelle. La ricarica come detto avviene tramite basetta proprietaria in circa due ore e devo dire che è un tempo più che onesto per le capacità che ci offre questo dispositivo considerando che abbiamo anche la possibilità di andare a monitorare il sonno. Un sonno che è risultato molto molto preciso anch'esso nei dati quindi agganciando sempre il dato di inizio e fine del nostro dormire ma soprattutto ci permette di andare a monitorare anche le fasi REM del sonno e soprattutto i pisolini quindi se siete abituati di fare una dormita e svaccarvi sul divano dopo pranzo beh lui riuscirà a monitorare anche questa attività. Per il resto questo orologio offre naturalmente anche le funzioni basilari di tutti i classici smartwatch quindi ci permetterà di andare a richiamare una sveglia che può essere tranquillamente impostata direttamente dall'orologio senza passare dall'applicazione. Abbiamo la possibilità di sfruttare il cronometro, il timer, visualizzare il meteo e qua c'è una piccola chicca legata sempre all'attività sportiva perché il meteo non si limita a mostrarci appunto i dati del giorno odierno o di eventuali giorni in futuro ma ci permette anche di rilevare le fasi lunari così come l'inizio di alba e tramonto e soprattutto il calare della luna e udite udite anche i valori di marea questi valori soprattutto indicati per chi ama fare degli sport acquatici e oltre a questo vi verrà eventualmente data una notifica tramite allarme qualora il tempo diciamo vada in condizioni piuttosto critiche da permettervi da anzi da non permettervi di proseguire la vostra attività sportiva. Il sistema operativo che comanda questo Honor Watch GS Pro è di tipo proprietario andando a sfruttare il processore integrato Kirin A1 che è quello che ritroviamo un po' su tutta la line up di smartwatch Huawei e Honor e devo dire che è il risultato piuttosto fluido ed efficiente soprattutto anche le schermate non si sono mai impuntate ed andando a effettuare uno swipe da destra verso sinistra o viceversa accedete a quelle che sono le funzioni rapide effettuando invece uno swipe dall'alto verso il basso accediamo a quelli che sono i toggle rapidi effettuando invece uno swipe dal basso verso l'altro accediamo a quelle che sono le notifiche. Qua forse si poteva fare qualcosa in più perché in realtà Honor Watch GS Pro non fa tanto di più rispetto a tanti altri smartwatch infatti le notifiche si possono essere visualizzate da tutte le applicazioni che abbiamo sul nostro smartphone ma possono essere solamente visualizzate quindi lette ma non possiamo ad esempio visualizzare gli emoji eventuali foto o appunto magari dei messaggi vocali oltre a questo una cosa una mancanza che c'è rispetto ad altri magari dispositivi è la mancanza di sincronizzazione con lo smartphone mi spiego meglio se voi andrete a leggere una notifica dallo smartphone o dallo smartwatch beh questa comunque non si andrà a eliminare sull'uno o l'altro dispositivo cosa che invece avviene ad esempio sugli ultimi dispositivi di Amazfit per il resto però fondamentalmente lui non è tanto uno smartwatch ma proprio uno sportwatch quello che invece è appunto mi è piaciuto appunto quello che vi ho detto è relativo alle chiamate che possono essere gestite tranquillamente qui dallo smartwatch infatti possiamo tranquillamente trasferire tutta la nostra rubrica all'interno del nostro del nostro orologio e da lì e andare a effettuare le chiamate o eventualmente ripescare proprio le ultime effettuate non manca infine la modalità di esercizio di respirazione una sorta di training che ci servirà appunto a eliminare lo stress accumulato magari durante la giornata attraverso proprio degli esercizi di respirazione così come non manca il barometro e la torcia che andrà a diciamo a illuminare il nostro display di luce bianca permettendoci quindi di visualizzare qualcosina nel buio notturno e concluderei col parlarvi dell'applicazione che comanda il tutto ossia Huawei Health qua c'è però da fare una piccola precisazione ossia che nonostante voi non abbiate un smartphone Huawei o Honor dovrete comunque andare a scaricare i servizi Huawei quindi Huawei Mobile Service questo perché dovrete creare un account che vi servirà appunto per accedere all'applicazione passato però questo piccolo ostacolo l'applicazione è davvero ben fatta mostrando in prima battuta tutte quelle che sono le statistiche e i grafici delle nostre attività sportive il monitoraggio del sonno i passi frequenza cardiaca eccetera eccetera ma da qui potete anche andare a personalizzare ulteriormente le impostazioni del nostro smartwatch ma soprattutto potete trasferire le watch face ne sono presenti tantissime anche se queste non possono essere diciamo personalizzate magari tramite una foto ad ogni modo lo store ne mette a disposizione davvero tantissime e di bellissime e per il resto un'applicazione che è ripeto è ben fatta e che ci permette anche di trasferire la musica direttamente al nostro orologio attenzione però che i file da trasferire dovranno essere unicamente in formato mp3 altrimenti non verranno letti in conclusione che dire di questo honor watch gs pro beh è uno sport watch davvero ultra ultra completo che offre anche tantissime funzioni smart cosa che invece tanti altri dispositivi peccano ma veniamo al prezzo perché attualmente su amazon italia con un coupon dedicato direttamente sulla pagina d'acquisto più un ulteriore codice sconto che vi lascerò logicamente qui sotto in descrizione beh vi porterete a casa questo orologio davvero super super efficiente ad un prezzo di poco superiore ai 170 euro e a questa cifra beh vi sfido a trovare qualcosa di meglio soprattutto che sia così performante e che vi regala funzioni smart uniche come ad esempio appunto la possibilità di gestire le chiamate direttamente dal polso abbiamo un sparco di sensori davvero ultra completo e soprattutto affidabile e una robustezza e una qualità dei materiali davvero unici insomma honor watch gs pro è un dispositivo che mi è davvero davvero molto molto piaciuto che vi straconsiglio qualora stiate cercando un dispositivo da abbinare alle vostre attività sportive ma senza rinunciare alle funzionalità smart principali per Emanuele tech today è tutto ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao